E' record di donazioni di sangue a Biancavilla, cura della locale, sezione Avis Ninotropea. Ieri, ultima raccolta dell'anno del prezioso liquido, il 2016, si chiude con un totale di 303 sacche di sangue raccolte. Mai un numero così alto è stato raggiunto dall'Avis biancavillese dal 1987, ovvero anno della sua fondazione, ad oggi. Nel 2004 si erano raggiunte 300 sacche, una domenica, quella di ieri, che è stata anche occasione per festeggiare uno dei soci volontari, Salvatore Furnari, che con il suo gesto ha raggiunto la sessantesima donazione. Torta con il numero 60, una fiaccole e fotoricordo davanti l'automoteca tra tutti i soci presenti per immortalare il suo record. Soddisfazione è stata espressa dai componenti dell'Associazione per i risultati ottenuti quest'anno. Segno questo, che la crisi economica e lavorativa non frena la solidarietà ed i gesti di altruismo verso chi ha più bisogno.